Per ogni abbonamento un albero piantato, non si tratta della RAI ma è l'iniziativa della rivista Alparco Lucano. Nell'edizione di quest'anno sono stati già piantati 330 alberi in 6 comuni, oltre che nei 4 parchi lucani. Domani saranno piantati altri 100 lecce autoctoni a Satriano, in mattinata nei giardini dell'Istituto Comprensivo, nel pomeriggio vicino alla chiesa di San Donato, alla presenza dei lettori abbonati.